Quarta parte, come vi ho anticipato, arriverremo in conclusione a capire cosa sono queste OER, Open Educational Resources, ovviamente gergo tipicamente anglosassone, noi diremmo risorse didattiche aperte, io non sono molto favorevole a traduzione di educative, perché da noi educativo è un po' educational, è meglio mantenere la traduzione didattico, che è più neutro, e quindi risorse didattiche aperte, oppure come alcuni dicono, risorse educative aperte, e come le licenze creative commons diventano funzionali alle Open Educational Resources, perché? Perché siamo sempre in quest'ambito, quindi ritorno allo schema e ci occupiamo di quest'ultima gamba dello schema, quindi chiudiamo la nostra lezione proprio con questa quarta parte a destra. E la domanda è questa, cioè, visto che il diritto d'autore scatta automaticamente, le Educational Resources nascono closed, cioè sono chiuse da un punto di vista giuridico, cioè perché automaticamente un docente crea la sua presentazione da slide, il suo video didattico, ha un copyright su quell'opera. E se vuole farla diventare Open, cosa può fare? Cioè, cosa deve fare per farla diventare Open? È una delle cose che deve fare è applicare una licenza Open, quindi quantomeno dal punto di vista giuridico, allora l'openness è un termine, è un concetto ampio che comprende anche questioni di carattere tecnologico, quindi open deve essere open anche dal punto di vista del formato del file e delle piattaforme su cui viene messa a disposizione. Io sono un avvocato, non mi occupo di quell'aspetto, trovate probabilmente dei corsi di gente molto più preparata di me per spiegarvi quali sono i formati adatti e le piattaforme adatte per fare Open Education Resources, io vi spiego l'aspetto legale, giuridico, cioè quali sono le licenze che rendono open un contenuto didattico. Una licenza d'uso, innanzitutto capiamo che cos'è una licenza, perché se non capiamo che cos'è una licenza non riusciamo a vivi. Licenza nella sua etimologia, come tutti i docenti di materia letteraria avevano già capito, c'è la parola latina licere, quindi autorizzare, dare un permesso, e quindi una licenza d'uso è un documento con cui il titolare dei diritti, scusate, che il titolare dei diritti d'autore allega la sua opera per regolamentare le modalità di diffusione di utilizzo e per, direi, autorizzarne gli utilizzi, proprio perché la parola licenza già mi fa pensare a qualcosa che dà un'autorizzazione. Questo documento, basandosi sul diritto d'autore e muovendosi quindi entro i suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, eccola qua, la licenza, quali usi si possono fare, quindi quali usi vengono autorizzati. Dall'altro però stabilisce anche le condizioni entro cui si possono fare questi usi. Quindi queste due anime le vedremo sempre in tutte le licenze, sia che siano licenze chiuse o proprietarie, sia che siano licenze open. tendenzialmente abbiamo una parte di libertà concesse, di autorizzazioni concesse, e una parte di condizioni imposte. Poi, a seconda, vedete, che prevalga l'uno o prevalga l'altra, cioè che prevalga l'aspetto di permesso qua a destra o l'aspetto di divieto, di condizione imposta, allora parlo di licenza proprietaria, da un lato licenza open, cioè proprietaria e la licenza in cui prevalgono, vedete, la metafora del cartello solitamente è abbastanza efficace, questo è il cartello che trovate all'ingresso di un parco, andate in un parco pubblico e vedete che ci sono una serie di divieti, quindi buongiorno, benvenuti nel parco, il parco è di libero accesso al pubblico dalle ore 9 alle ore 17, dopodiché viene chiuso. E ricordatevi che se entrate non potete fare picnic, non potete portare il cane, non potete accendere fuochi, non potete giocare a palla, una serie di divieti, per cui vabbè, ok, sapete che potete entrare, non potete farci molto in sto parco, però fate un giro e uscite. A differenza, dall'altra parte invece, un parco che ha un'optica più open vi dirà benvenuti nel parco, il parco è aperto dalle ore 9 alle ore 22, e potete giocare a palla, potete raccogliere i fiori, potete fare il picnic, potete portare il cane, però ricordatevi che comunque non potete accendere fuochi, oppure non potete buttare rifiuti. Quindi una serie, anche nelle licenze open, rimane sempre qualche spiraglio di condizioni da rispettare, perché se non ci fossero, sarebbe, come potete capire, un pubblico dominio. Cioè se qua ci fosse scritto fai un po' quel cavolo che vuoi, detto volgarmente, però sarebbe un pubblico dominio, cioè sarebbe un parco che non è di nessuno, è una commons, come dicono gli inglesi, una terra di nessuno in cui tutti possono far pascolare il bestiame, No, invece è comunque una situazione di qualche condizione da rispettare. E infatti l'effetto che si ottiene con le creative commons, con le licenze open, è questo. Ripeto, come ho detto all'inizio, noi parliamo delle creative commons perché è la punta dell'iceberg di questo fenomeno, è però quello che diciamo per le creative commons può valere anche per altre licenze che sono simili, che fanno più o meno quello stesso lavoro. Però ecco, la situazione che si crea è questa, con le creative commons abbiamo un, creiamo delle sfumature di grigio intermedie tra quel bianco e nero di cui abbiamo parlato prima. Prima c'era copyright e tutti i diritti riservati, per poi arrivare alla caduta in pubblico dominio, che è il suo esatto opposto, nessun diritto riservato. E fino alla nascita delle creative commons l'unico spazio di azione che avevamo qua in mezzo erano le eccezioni al diritto d'autore di cui vi ho fatto vedere due o tre casi prima, quelle norme che ci danno dei margini d'azione. E con le creative commons invece si creano delle sfumature, non sono davvero 50, questa è una battuta ovviamente, come avrete capito, sono sei sfumature di open, sei sfumature di alcuni diritti riservati, che è un po' il motto delle creative commons. Non vi faccio, avrei preparato, c'è un video online molto bello di creative commons che potete vedere in autonomia, cioè si trova su YouTube, si chiama Diventa Creativo e riassume un po' in sei minuti, sette minuti il senso delle creative commons. Magari lo vediamo alla fine, però ecco, lo potete anche vedere da soli. Lo potete far vedere ai ragazzi ad esempio, perché è veramente fatto con una grafica super semplice, con delle icone molto chiare, però ecco, ai nostri fini ci interessa capire come funzionano queste licenze creative commons e vedete che sono strutturate innanzitutto su quattro clausole base, cioè ogni simbolino, immagino che li avete già visti, nel senso, non credo che non siate così nuovi, nel senso che se si è frequentati i blog, le piattaforme per la didattica già sono integrate quasi sempre alle licenze creative commons, vedete che ogni simbolino rappresenta una condizione, una di quelle condizioni che comparirebbero sul cartello all'ingresso del parco e sono anche abbastanza intuitive, cioè il simbolino, l'omino rappresenta l'attribution, il fatto che io devo riconoscere all'autore originario la sua, cioè devo menzionarlo, devo riconoscere la sua paternità, il dollaro barrato è non commercial, cioè io non, cioè io utilizzatore posso farne degli usi ma che non siano commerciali, quindi l'autore si è riservato a sé l'esclusiva sul sfruttamento commerciale, poi abbiamo no derivatives e share alike, queste riguardano l'attività di modifica e di realizzazione di opere derivate, cioè opere derivata vuol dire prendere un'opera e realizzarne qualcosa di diverso, farla diventare qualcosa di diverso, quindi farne un'opera derivata che è creativa ma che appunto parte da qualcosa di creato da qualcun altro prima, un esempio, prendete queste mie slide, qualcuno di voi prende queste mie slide, le impasta in modo grafico interessante e le fa diventare un'infografica, aggiunge anche del colore, aggiunge del testo esplicativo e ne fa un'infografica, ne fa un manifesto da esporre durante un convegno, quella è un'opera derivata dalle mie slide e quindi lui mi deve comunque citare come attribution e deve rispettare le condizioni che io ho imposto, se io ho messo il non opere derivate, non derivative works, lui non può fare questa infografica senza chiedermi prima il permesso, chiaro, cioè cosa si intende per non opere derivate, se l'autore ha messo questo nd, vuol dire che non gradisce che la sua opera venga utilizzata come base per fare qualcos'altro, invece se trovate il share a like, condivide lo stesso modo, l'autore ha fatto una scelta diversa, cioè l'autore vi dà la possibilità di fare un'opera derivata, a condizione però che anche l'opera derivata venga rilasciata sotto la stessa licenza, infatti se vedete il simbolino è a forma di freccia, cioè è un po' come se tornassero indietro le libertà in un certo senso, è circolare, in senso virtuoso del termine, cioè nel senso che l'autore, io che ho fatto queste slide, concedo questa libertà e infatti vi premetto che queste mie slide sono sotto licenza gratis commons proprio attribution share a like, quindi è esattamente un esempio, cioè un esempio non teorico ma reale, quindi chiunque di voi voglia fare una modificazione delle mie slide lo può fare ma rispettando questo share a like, cioè rilasciando l'infografica ad esempio rilasciando il video divulgativo fatto sotto le mie slide a sua volta sotto una licenza attribution share a like che è quella che io ho scelto e questo permette che le libertà che sono partite da me diciamo vengano poi trasmesse anche agli utilizzatori dell'opera derivata quindi è un effetto a cascata per cui se uno poi prende l'infografica vuol farne un video da lì e allora tira fuori a sua volta un'opera derivata e deve a sua volta mettere la licenza share a like questo è il senso delle quattro clausole dalla combinazione di queste quattro condizioni di queste quattro clausole base vengono fuori le sei licenze creative commons che sono queste e vedete i simbolini sostanzialmente inseriti qua nel bottoncino che trovate poi sotto i siti sotto i blog perché c'è un 6 più 1 perché questa ve l'ho già spiegata in realtà cioè quando abbiamo parlato del pubblico dominio torno indietro per farvi vedere ma non resta aver chiaro quando abbiamo parlato del pubblico dominio vi ho detto che uno dei casi di pubblico dominio è questo il punto c quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti e lo fa attraverso il cc0 questo cioè il pubblico dominio diciamo creato artificialmente per scelta dell'autore o del titolare dei diritti una donazione al pubblico dominio viene chiamata public domain dedication e questo è molto più forte di una licenza perché qua davvero l'autore ha rinunciato ai suoi diritti salvo i diritti morali perché quelli non si possono non ci se ne può liberare l'abbiamo spiegato però insomma ha liberato tutti gli altri e quindi arrivo ho sentito che c'è stata una domanda ma arrivo finisco il ragionamento e niente da qua in giù come vedete si scende progressivamente dalla più libera alla più restrittiva quindi la prima è la più libera attribution sostanzialmente è un fai quello che vuoi della mia opera basta che mi citi e pian piano si aggiungono vedete restrizioni lo share a like l'esempio che vi ho fatto prima delle mie slide il no derivatives e poi il non commercial non commercial aggiunto diciamo gli altri due quindi quella più in basso è la più restrittiva quella più in alto invece è la più libera prendete confidenza perché queste sono licenze che vi permettono di cioè queste sono licenze che se le trovate sulle opere che trovate online che scaricate online vi permettono maggiore libertà anche in ottica di didattica a distanza la stessa cosa se voi volete applicare alle vostre opere una licenza Creative Commons vi permette questa scelta vi permette di come dire aumentare il potenziale di riuso della vostra opera non vi stanno tutelando di più attenzione che questo è un equivoco su cui c'è spesso c'è spesso c'è un equivoco che si diffonde spesso non vi tutelate di più cioè mettere una licenza Creative Commons non vi dà una tutela di più perché la massima tutela è non dire nulla e scrivere copyright lasciare che la legge scatti automaticamente e di default se mettete una licenza open state già liberando parzialmente la vostra opera però aumentate il suo potenziale di riuso cioè permettete a molte più persone di riutilizzarla e fare qualcosa che vi che magari vi dà anche maggiore visibilità chiudo questa parte con questa slide che riprende non fa altro che riprendere questo mio elenco come vedete nello stesso ordine però con un effetto grafico decisamente migliore del mio fatta da un autore di infografiche molto bravo qua c'è la licenza come vedete qua a fianco e qua di fianco sostanzialmente sulla base delle licenze passando a destra vedete cosa potete fare e cosa non potete fare quindi quando trovate un'opera con licenza potete andare qua di fianco e vedere se queste attività sono fattibili o meno mi sembra molto molto chiara questa infografica quindi quindi ve la lascio come riferimento prego se c'è una domanda grazie a tutti